Cosa dobbiamo fare adesso? Signore, volete spiegarci meglio? Agente, non è quello che pensa che sia! Un giorno prima! Questa torcia illuminerà tutti i tuoi segreti! Chiunque venga indicato deve rivelare la propria cotta! Ecco il mio amore! Davvero? Questo sfigato! Almeno è super intelligente! Bene, allora vediamo le vostre cotte! Fantastico! La mia cotta è così bella! È Eric! Sono pazza di lui! Cosa? Eric è la mia cotta! Ragazze, ce n'è abbastanza di me per tutte! Siamo fatti l'uno per l'altra! È la mia cotta! L'ho mostrato prima io! Non me la puntare negli occhi! Lui è mio! Ragazze, smettetela di litigare! Ridammela! È mia! Smettila, Michelle! Oh, Polly! Qual è il suo problema? Polly? Ma dove siamo? È una piscina? Polly! Eccola! Sono qui! Cos'è questo posto? È una piscina segreta sotto il nostro letto! Ehi, ciao! What? Ragazze, ho un piano! Sarà epico! Benvenuti alla nostra festa segreta in piscina! Tuffati sotto il letto! Vieni nella nostra piscina segreta! Siamo pronti a fare festa! Andiamo nel nostro club segreto! Chi è questo? La mia cotta! Non puoi entrare! Sta bene, sta bene! Cosa pensi di fare? Sono sulla lista degli invitati! Dorothy, fallo entrare! È con me! Ok! Entra pure, re degli sfigati! Grazie, Judy! Ragazze, è arrivato! Guardate quanto è bello! Che ne pensate di lui? Ehi, dio della piscina! Grande sfigato! Ciao, ragazze! Wow! secchione in piscina! Oh! Che sfigato! ehi spiegato ehi ragazze smettetela di fare le bolle con il mio ragazzo Chad ti salvo io sei il mio pesciolino rosso veloce vai avanti dov'è Michelle? la stiamo aspettando da molto ehi ragazze Michelle dove sei stata? ho portato una cosina ti puoi dire? oggi faccio da babysitter a mio fratello e mia sorella ciao siamo qui per rovinarvi la vita oh no 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 la nostra giornata tranquilla è tutta incasinata mi dispiace ragazzi ecco un'idea bambini giocati noi ci nasconderemo sotto il letto cosa c'è lì? diamo un'occhiata libere! e niente bambini fastidiosi ehi! pensavate di lasciarci soli? siamo proprio qui oh ci sono anche loro! oh ciao ragazzi dove vorreste costruire una stanza segreta? scegliete il posto più insolito scrivete le risposte qui sotto per me ehi svegliati! sfigata! Chad! avere la propria piscina sotto il letto è così bello! questa stanza è troppo calda devo rinfrescarmi abbasso la temperatura bello fresco! perché fa così freddo? c'è la regina delle levi in piscina ehi ragazze! abbiamo pagato per una piscina non per un bagno di ghiaccio non era questo l'accolto! ops! ho pensato a qualcosa vogliamo il rimborso? chi vuole della cioccolata calda? sono 5 dollari! venite tutti! dammi la cioccolata calda! guarda! Michelle è un genio! cioccolata calda per tutti! ragazzi! riscaldatevi! che caldo! non c'è più bisogno della giacca ora! fa troppo freddo! basta così! wow! siamo di nuovo ai tropici! si festeggia! fa così caldo! ho sete! vado a prendere da bere! grazie Judy! sei la migliore! uno tsunami bagnato? chi è stato? eric! ciao carino! quel cucciolo è mio! è mio! mi ha versato nell'acqua addosso! no! è mio! amica! risolviamo questa discussione da adulte! una lotta in piscina! primo round! ragazze! ho portato da bere! Judy! che bello! avremo bisogno di un po' di ghiaccio! amica! facciamo pace! ragazze! ci siamo divertite un mondo! avere una piscina sotto il letto è fantastico! che giornata l'ora! è ora di andare a letto! ehi ragazze! questa è la mia stanza! ok! dovreste andare! ci vediamo domani! bye! bye bye! è ora di alzarsi! mi aspetta una nuova giornata nella piscina segreta! oh no! c'è solo il pavimento! dov'è la mia piscina? pronto? ragazze! mi hanno rubato la piscina! stiamo arrivando! siamo qui, polli! non preoccuparti! troveremo la nostra piscina segreta! no! non è qui! polli! devi cercare invece di piangere! ok! se fossi una piscina dove mi nasconderei? è terribile! perché la stanza è così disordinata? mamma! ciao! tu! tu! e tu! pulite subito questo posto! oh! io devo andare! hai notato? la mamma di polli indossava un costume da bagno! è evidente che sta tramando qualcosa! seguiamola! beh! ciao piscina! che succede qui? ragazze! entrate nell'armadio! ecco chi ha rubato la nostra piscina segreta! mamma! non ti vergogni di te stessa! ma dove sono tutti i miei studenti? non c'è nessuno! che succede qui? una festa in piscina? allora è qui che sono! è questa l'entrata? è questa! ma prima devi pagare l'ingresso! ecco qua! avresti dovuto studiare di più a scuola! ora vado a fare festa! perché non siete tutti in classe? signorina paperclip! non sei stata invitata! questa festa non è per lei! tornerete a scuola! bene! nuotiamo ragazze! ecco l'argomento della lezione di oggi! che paese è questo? Guadalupa! bel fatto! continuiamo a studiare! oh no! guardate! c'è un sacco di gente! la nostra piscina segreta è diventata un luogo molto popolare! dov'è la nostra manager? eccola! la situazione è sfuggita di mano! chiamo il 911! sono qui! avete bisogno di disciplina? sì signore! non è permesso gettare rifiuti in piscina! sei in arresto! salve agente! ciao! esci dalla piscina è proprietà privata! tutti fuori! che bella e tranquilla giornata in piscina! siamo una coppia perfetta! nuotiamo pesciolini! non si corre in piscina! eric! non sapevo che avessi un gemello! un'incredibile festa segreta in piscina per i VIP! c'è una piscina sotto il tuo letto! fine! fine!